Monte Galda, camion, si rovescia, migliaia di polli muoiono schiacciati. È da poco passata luna di notte quando un camion che aveva appena fatto il carico di polli da un'azienda avicola per portarli al macello, nell'affrontare una curva in via Boschia, Colzè, si capovolge finendo nel fossato. I polli, contenuti nelle ceste, circa 2.000, sono in parte morti, schiacciati. Sul posto per l'operazione di recupero anche con l'autogrui, vigili del fuoco di Vicenza e Padova. I pompieri hanno proceduto al taglio della barra di traino del rimorchio, dando modo alla motrice in strada di riprendere il viaggio, mentre dopo il nulla ossa del veterinario i polli sono stati portati al macello, quelli invece morti sono stati raccolti nelle ceste e inviate all'inceneritore per poi recuperare il rimorchio del camion.